Salvatore Rostini però penso che noi abbiamo ancora ben stampato in mente il ricordo di Copenaghen e volevamo a tutti i costi portare a casa questo risultato anche perché non penso siamo la meno di questa Russia e oggi ce la siamo giustamente conquistata Tu dai un po' dei nuovi soprannomi ai tuoi compagni ogni tanto si sentono degli appellativi tipo Draghetto invece di Dragan, Ivano e via dicendo nella tua indole Ivano è storico, c'era già prima che arrivassi io e Draghetto perché mi viene insomma alla fine siamo davvero quando ci ritroviamo qui siamo una grande famiglia e questo è lo spirito del gruppo quindi a me viene istintivo anche poi in transagonistica di modificarli però ti ripeto a parte questo resta oggi una grande prestazione soprattutto come diceva Birarelli degli esordienti io voglio fare i complimenti a Pippo Lanza che ha fatto una partita veramente importante e proseguiamo sapendo di aver iniziato col piede giusto grazie grazie grazie